buongiorno a tutti ragazzi sono francesco ho fatto il mio trapianto di capelli qui in istanbul con selda center tutto perfetto staff professionale grande dottori grandi assistenti nel trapianto stesso tutto il pacchetto che mi ha promesso il signor furio responsabile per il mercato italiano e spagnolo è stato rispettato e svolto al cento per cento quindi niente da dire lo confermo e lo suggerisco fortemente